la sveglia mattutina questa volta è da parte mia da parte di bruno barteloni che vi augura il buongiorno assieme ad una voce amica una voce ma soprattutto un volto che ci ha accompagnato per tanti anni a livello televisivo sia a livello regionale che nazionale ben ritrovato al nostro luca di nicola ciao bruno grazie buongiorno a tutti buongiorno ai tuoi radioascoltatori e grazie per questo risveglio molto particolare mi fa molto piacere grazie fra l'altro noi abbiamo avuto modo anche di condividere un'esperienza professionale per diversi anni come presentatori delle selezioni di miss italia per le regioni abruzzo e marche che ricordo hai di questa esperienza sì intanto è vero siamo stati spesso non non insieme su palchi separati una volta mi ricordo insieme in una finale regionale lì nella tua splendida pescara non so se tutti ricordi eravamo insieme io ero sul palco tu facevi un po' l'inviato insomma siamo stati anche una volta insieme ricordi molto belli Bruno uno perché eravamo più giovani diciamo la verità molto quindi comunque almeno quando il buon mimo del moro mi chiamò parliamo del 97 98 insomma è ovviamente un un pischello come si dice a roma e si edizioni bellissime senza alcuna polemica insomma erano altre annate di miss italia a quei tempi c'era la rai insomma veramente si respirava un clima di grandissimo entusiasmo con tante belle ragazze con era una bellissima giostra miss italia poi so io abbia anche la fortuna di presentare per due edizioni le pre finali nazionali che per molti anni si svolsero nella riviera delle palme lì nella bella san merito del tronto quindi insomma tanti bei ricordi alcuni dei quali anche condivisi con un caro amico quale ti reputo insomma la carriera di luca di nicola comunque è lunga e variegata soprattutto in campo visivo hai avuto anche la fortuna di essere a contatto con i personaggi più noti del mondo della televisione dello spettacolo della letteratura e del cinema si bruno io devo dire la verità insomma sono stato da questo punto di vista molto fortunato perché da bambino avevo la pulsione artistica di voler fare il presentatore quindi insomma coinvolgevo tutti i familiari nelle varie feste comandate ognuno doveva fare qualcosa perché insomma io poi dovevo presentarli fino a quando poi dopo il diploma mi sono iscritto all'università della sapienza e ho cominciato a girovagare negli studi televisivi tra biano mentana la dear oggi studi fabrizio frizzi via teulada gli storici studi della rai incontrando questi personaggi ai quali mi attaccavo come una una mignatta veramente una sanguisuga perché volevo rubare con gli occhi con con le orecchie tutto quello che facevano loro che io sognavo sinceramente detto proprio tra di noi anche se tra di noi siamo di fare il loro il loro mestiere poi in effetti devo dire anche una volta aggiunto uno standard professionale ho avuto anche il piacere di riavere questi personaggi nelle mie manifestazioni negli spettacoli nelle trasmissioni che ho condotto e devo di proposito di fortuna credo proprio di essere stato fortunato se dico di aver affiancato negli anni non so una raffaella carralo retta goggi pippo baudo fabrizio frizzi veramente sono felicissimo anche quando ci ripenso purtroppo qualcuno di loro non c'è più notoriamente ma alcuni ricordi sono indelebili sono custoditi nel mio cuore sono stati comunque un viatico importante per la mia carriera e da ciascuno di loro ho rubato in senso metaforico qualcosa che porterò per sempre con me tutti i grandi nomi della televisione che tu hai portato anche nella tua Avezzano perché da tanti anni sei ideatore e presentatore di un premio molto importante sì Bruno io ho fatto per 25 anni appunto sono stato l'ideatore l'organizzatore e ovviamente il presentatore del festival città di Avezzano premio civiltà de marsi poi sono arrivato alla 25esima edizione ma ero consapevole che mi sarei fermato alle nozze d'argento questo è avvenuto nel 2019 ero ignaro che poi un anno dopo il mondo sarebbe stato sconvolto dalla pandemia io in realtà avevo pensato di ritirarmi di chiudere questa manifestazione appunto quell'anno devo dire alla luce col seno del po insomma ho fatto bene anche perché io mi sono fermato ad aprile 2019 e poi appena dopo 7-8 mesi è successo quello che ricordiamo e che vorremmo tanto dimenticare e in quella manifestazione veramente il gota della televisione è passato sì li ho portati tutti 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 proprio nessuno escluso mi è mancata soltanto la Carrà perché l'anno stava promuovendo un suo ultimo disco in Spagna parlo del 2012-13 però Raffaella mi mandò una lettera bellissima mi diceva grazie per tutte le belle parole che le avevamo mandato nell'invito bla 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 però non riusciva a venire ma al di là di lei le ho avuti tutti Cuccarini, Venierra, Goggi, tutte e due le sorelle ha avuto anche Piero Angela, la buonanima di Piero Angela Lino Banfi, Amadeus, Conti, Frizi, le ho avuti proprio tutti la Carlucci una manifestazione bellissima che dava non soltanto la possibilità dei giovani interpreti da tutta Italia di promuoversi ma poi soprattutto era il modo per promuovere la Marsica, Vezzano, la provincia dell'Aquila ma l'Abruzzo in generale conferendo a questi personaggi appunto un premio che si richiamava all'antica civiltà dei Marsi Vorrei anche aggiungere che Luca Di Nicola oltre che essere un professionista della televisione e della comunicazione e anche un docente, un professore allora ti chiedo oggi come oggi un tuo giudizio su questa generazione di giovani che magari si lascia anche influenzare da questo oggetto diabolico che è la televisione Sì Bruno, loro in realtà la televisione non la seguono tantissimo perché sono bombardati da un altro omicidiale oggetto che è il benedetto o meredetto cellulare io tante volte mi fanno un po' arrabbiare e dico loro la zucca è vuota e il cellulare è pieno perché di file, di foto, di video c'è di tutto e di più e dico però il cervello è vuoto però mi dicono spesso di non guardare molto la televisione noi pensiamo che loro siano legati al grande fratello, a Temptation Island a tutte queste, posso dire, porcherie di mattina insomma questi format che non tanto amo io che vengo da un'altra televisione sarò anche boomer però insomma sono legato ad altri format loro in realtà seguono pochissime cose ecco non gli parlare di telegiornali, non gli parlare di queste cose perché non gliene frega nulla purtroppo loro si dicono informatissimi attraverso altri canali, bene però non guardano molto la televisione poi c'è anche invece chi è legato a uomini e donne che sono influenzati da quello che vedono sì abbastanza perché pensano per esempio che la cultura non serva tantissimo che serva invece piuttosto il fisico prestantissimo quindi più forma che contenuto è vero che la forma è essa stessa sostanza io spesso glielo ricordo però dico anche ragazzi contenuto e contenente come diceva il mio vecchio professore di filosofia a proposito di insegnanti e allora probabilmente poi li riconduco un po' sulla letta via però loro cercano le scorciatoie dico vabbè ma se tanto quello è lì a non fare nulla però alla Ferrari, al macchinone, alla vita facile, tutte le donne probabilmente certi format non aiutano molto perché poi noi invece siamo lì che diciamo ma no la cultura, ma no il sapere, ma no le competenze poi ti tirano fuori, ti fanno snocciolare in effetti dei nomi di personaggi tra virgolette dei personaggi senza né arte né parte come si dice alle mie parti e loro ti dicono vabbè tu mi dici che devo studiare invece guarda un po' quello lì però intanto cerchiamo, quello lo fa l'insegnante che è me cerchiamo di indicare dei modelli che siano virtuosi e che possano essere presi d'esempio la televisione di oggi Bruno ho detto da uno che ne ha masticata molta insomma da questo punto di vista langue un po' purtroppo Luca di Nicola ti abbraccio, ti auguro una felicissima giornata un abbraccio a voi tutti e ovviamente un abbraccio ai vostri tantissimi radioscoltatori di Radio Studio 5 grazie, buona giornata col guest su Studio 5